Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati o benvenuti sul canale. Oggi visto che siamo in tema di healthy per quanto riguarda la skin care, per quanto riguarda la hair care, tutto quello che appunto fa bene al nostro corpo, oggi voglio proporvi un'acqua, una bevanda drenante e detox. Ho fatto questa appunto ricettina perché ultimamente sono un po' gonfietta e ho un po' di ritenzione idrica e quindi mi sono accorta di avere le mani gonfie, il viso, anche la pancia e certo non è che sono questa stecchetta di ragazza però capisco quando sono un po' più gonfia ma di ritenzione idrica o gonfiore a livello appunto di aria, diciamo così, che quando appunto sono un po' più tondetta perché maniamo come se non ci fosse un domani. Però non è questo appunto il caso. Per fare questa bevanda abbiamo bisogno di tre ingredienti che sono la cannella, lo zenzero e il tè verde. Adesso ovviamente dopo vi farò vedere passo dopo passo come realizzare questa bevanda. Che dirvi, questi tre ingredienti hanno proprietà fantastiche per quanto riguarda appunto il nostro organismo sia a livello interno che a livello esterno perché il tè verde è un ingrediente che aiuta a controllare l'appetito e se bevuto prima dei pasti, circa mezz'ora prima, 15 minuti prima, ovviamente dà già quel senso di sazietà, quindi mangeremo di meno, di conseguenza aiuta e facilita la perdita di peso. E' anche un ottimo, come posso dirvi, energizzante nel senso che apporta al nostro organismo degli effetti appunto energici come il caffè. Ovviamente il caffè con la caffeina, il tè con la teina. Mentre la cannella è un antiossidante e protegge anche dall'attività dei radicali liberi e quindi diminuisce l'invecchiamento della pelle ed è un antibatterico per eccellenza e insieme ad altre spezie fa proprio questo, è un tocca sana diciamo per il nostro organismo. Lo zenzero invece aiuta la ritenzione idrica e quindi è un ottimo amico per noi donne che combattiamo questa cellulite odiosa. Ovviamente ricordiamoci che queste bevande sono bevande non fatte per dimagrire, quindi bevete questa per due anni e mattina, pomeriggio e sera, iniettatevela anche nel sottopelle, no. E' una bevanda che appunto si fa per ripulire l'organismo e aiutarci invece di acquistare tisane che se non sono naturali al 100% hanno comunque schifezze all'interno e quindi che senso ha comprare una cosa detox se all'interno ci sono conservanti? Non serve. Quindi basta perdere 5 minuti e farsi la propria tisana che ovviamente se finite nell'arco della giornata, se viene bevuta più spesso durante la giornata, il giorno dopo 5 minuti si può tranquillamente rifare. Comunque vi lascio al video per vedere come si fa questa bevanda e noi ci vediamo alla fine per dirvi le ultime cosette a riguardo. Quello che ci servirà per questa ricetta è un litro di acqua, dello zenzero, della cannella, poi avremo bisogno di due bustine di tè, io utilizzo queste qui della Lipton ma vanno bene di qualsiasi marca ed è un classico tè verde però, un mestolo, un cucchiaino che ci servirà da dosatore, un tegame e ovviamente una bottiglia dove appunto mettere la bevanda. Mettiamo nel tegame il nostro litro di acqua e poi mettiamo due cucchiaini di zenzero, attenti a non eccedere, e due cucchiaini di cannella. Mescoliamo il tutto prima di mettere il nostro tegame sul fuoco. Una volta messa l'acqua sul fuoco io prendo appunto questa frusta per eliminare tutti gli eventuali grumi. Metto la fiamma media, alta e aspetto che inizia a bollire. Una volta che inizia ha il bollore faccio bollire il tutto per due minuti e poi successivamente spengo e metto le due bustine di tè in infusione e lascio per cinque minuti. Successivamente prendo la mia bottiglia, il mio imbuto, il pastino e un mestolino e inizio a travasare la mia bevanda. Utilizzo il colino per eventuali residui di cannella o di zenzero. Una volta messo nella bottiglia lascio raffreddare. La bevanda si può bere calda ma anche tranquillamente fredda. Io la preferisco più fresca. Bene, questa bevanda per avere un effetto diuretico va bevuta la mattina a mezz'ora prima della colazione. La potete bere calda, fredda, tiepida come meglio credete. Per avere invece un effetto più drenante, detox, anticellulite e quant'altro sarebbe buono berla mezz'ora prima di tutti i pasti. Quindi mezz'ora prima della colazione, mezz'ora prima del pranzo e mezz'ora prima della cena. Cosa che sinceramente io non riesco a fare. Nel senso devo mettermi proprio col pensiero di fare questa cosa. Diciamo la mattina ci sta. La mattina forse è meglio se prima della colazione la riscaldiamo un poco se abbiamo anche quell'effetto nel nostro intestino di ammorbidire le feci e quindi ci dovrebbe anche aiutare a un buon transito intestinale. Ma quanto mi sento farmacista. Comunque detto questo la potete bere appunto come vi pare. Io e do un consiglio anche alla mia sorellina però vabbè consiglio alla mia sorellina che però non fa niente. Lascia stare, non ho detto niente perché tanto a lei non piace neanche lo zenzero più di tanto. A me piace molto lo zenzero ma odio la cannella. L'ho provata e sinceramente come gusto mi piace. Molto strano non so perché ma mi piace. Forse perché la cannella viene addolcita o smorzata diciamo dallo zenzero e dal tè verde. E niente per chi invece anche provando non piace il gusto potete ovviamente addolcire un po' dolcificare questa bevanda con un po' di stelvia o con un dolcificante naturale. Io vi consiglio di evitare perché tanto se proprio non vi piace non dovete bere un litro prima della colazione. Bevete due bicchieri, un bicchiere, una tazza, quello che volete. Fate un po' di sacrificio. Non muore nessuno alla fine. Che altro vi devo dire? Niente. Vi ho detto tutto, vi ho fatto vedere appunto tutti i passaggi. Se avete ovviamente qualche dubbio o qualche domanda scrivetemi qui sotto nei commenti. Questo è tutto per oggi. Vi ricordo di seguirmi su Instagram. Mi trovate come Morgana Pamio. Vorrei anche farvi apparire i nomi da qualche parte tipo col simbolo di Instagram ma non lo so fare. Seguitemi su Instagram mettetemi un pollice in su se questo video vi è piaciuto e se volete altri video di questo genere scrivetelo qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Do il benvenuto ai nuovi iscritti perché ho visto che ci sono state tre o quattro aumenti di numero e nulla. Io vi do un grande bacio e l'appuntamento e come sempre al prossimo video. Ciao!